Davvero nel 1933 un disco volante è caduto in Italia, nel nostro paese, dalle parti di Varese e subito Mussolini ha ordinato che il misterioso velivolo e i suoi occupanti fossero nascosti. Davvero è successo? Davvero prima del cosiddetto incidente di Roswell, di cui abbiamo già parlato, c'è stato l'incidente di Vergiate? È di questo che parleremo oggi. Ben trovati i naviganti nella mia stanza delle meraviglie. Oggi è la giornata, il mercoledì, in cui parliamo delle teorie del complotto e della cospirazione. C'è un complotto che risale, addirittura risalirebbe, agli anni del fascismo. La storia è assolutamente intrigante e lo sentirete, insomma, sembra tratta da un film. È il 13 giugno 1933. Il cielo stellato di Vergiate, in provincia di Varese, improvvisamente è attraversato da una scia luminosa. Sembra una stella cadente, ma le sue dimensioni si fanno di colpo più grandi, finché con un botto questo misterioso oggetto finisce per abbattersi al suolo. Immediatamente le forze dell'ordine intervengono e, recatesi sul luogo dello schianto, trovano i resti di un misterioso velivolo volante e i corpi di due strani piloti, piuttosto alti e con capelli e occhi chiari. L'incidente è subito secretato, scatta il divieto di diffonderne la notizia ed entra in gioco il misterioso gabinetto RS bar 33, dove la sigla starebbe per ricerche speciali, voluto dal duce Benito Mussolini in persona e guidato niente meno che dallo scienziato inventore Guglielmo Marconi. I resti dell'oggetto volante ecco che vengono subito trasferiti in un hangar degli stabilimenti aeronautici che la Savoia Marchetti ha avergiate proprio e i corpi dei due cadaveri finiscono in formalina. Tutto resta occultato e segreto finché, a guerra finita, l'Air Force americana cosa fa? Si impossessa dei resti e li spedisce in America, dove saranno collocati in una nuova zona militare segreta. Appena allestita, guardate un po' nel deserto del Nevada, che prenderà il nome di… esatto, avete proprio indovinato, Area 51. È una storia molto suggestiva, no? Come dicevamo, sembra un film, sembra consegnare in effetti questa storia all'Italia la palma per il primo crash ufologico, 14 anni prima del ben più famoso crash di Roswell, l'incidente di Roswell, alla cui abbiamo dedicato un episodio qualche tempo fa. A rendere pubblica questa storia nel 2000 è il segretario del Centro Ufologico Nazionale, un'associazione privata, nonostante il nome così roboante, che racconta di aver ricevuto da una fonte anonima alcuni documenti d'epoca fascista, che conterrebbero informazioni riservatissime sull'incredibile scoperta. Dal centro, dal CUN, così si chiama, si sostiene che, sottoposta a esami, la carta dei documenti risulta autentica. Ma qui, ecco che sorgono i primi problemi. Non è chiaro, infatti, quali test siano stati effettuati. E in ogni caso, fogli di carta che risalgono agli anni 30 del secolo scorso, non sono sufficienti a confermare l'autenticità di ciò che può esserci scritto sopra. Fogli simili se ne possono trovare quanti se ne vuole ai mercatini dell'usato, alle bancarelle che vendono libri vecchi, cancelleria del secolo scorso, insomma, si può trovare veramente di tutto e scriverci soprattutto sopra quello che si vuole, magari usando anche una vecchia macchina da scrivere. Il problema, infatti, è che non c'è nessun altro documento a disposizione degli storici che riguarda un possibile schianto aereo avergiate nel giugno del 1933. Non c'è tantomeno nemmeno una conferma circa l'esistenza di questo fantomatico gabinetto RS-33. Il modo in cui sono scritti i documenti che vengono proposti in un libro, infine, non sembra per niente realistico. Dovrebbero essere documenti appartenenti a un archivio, no? Così viene raccontato. Ma in realtà non presentano numeri di protocollo, non ci sono timbri, non c'è nessuna indicazione verificabile circa il mittente o il destinatario. Se a tutto questo aggiungiamo il rifiuto da parte del CUN di questo centro di consegnare i documenti ad altri ricercatori e ad altri studiosi per sottoporli a verifiche da parte di autentici esperti, beh, direi che ne abbiamo più che a sufficienza per dubitare della serietà di tutta la storia. Come sempre poi ci sono i finti esperti, insomma, quelli che magari si vanno a mascherare su YouTube per far credere di non poter rivelare la loro identità, perché stanno rivelando dei segreti compromettenti. Alcuni di questi sostengono, per esempio, che la prova dell'autenticità di questo UFO crash di Vergiate si troverebbe nell'archivio di Stato di Milano, in particolare nel Fondo Gabinetto Prefettura e, di preciso, proprio ai faldoni 400 e 401. Dei documenti effettivamente ci sono, ma non riguardano ritrovamenti di UFO, bensì che cosa? Segnalazioni di aeroplani sospetti, atterraggio di velivoli stranieri. Anche un telegramma, che spesso viene mostrato in certi video, in certi articoli ufologici che trattano dell'argomento, sembrerebbe rivelare qualcosa. Si legge in questo documento. D'ordine personale del Duce disponesi immediato, dicesi immediato, arresto, diffusione, notizia relativa at aeromobile, natura et provenienza sconosciute, di cui at dispaccio Stefani, data odierna, ore 7.30. Direzione generale, affari generali, fine, stop. L'agenzia Stefani era l'agenzia che dava le notizie, quella controllata dal regime e probabilmente aveva dato la notizia di qualche avvistamento sconfinante, qualche sconfinamento magari. Non stanno parlando di un UFO qui, di qualcosa di proveniente dallo spazio, di extraterrestri. Parlano di qualche velivolo straniero, probabilmente, che si è reso responsabile di una qualche violazione. E quindi è una questione di tipo militare. Magari un dirigibile, che è passato dove non doveva, magari un veicolo la cui attività poteva, per l'appunto, avere delle implicazioni di tipo militare. E allora mettere il segreto su una faccenda di questo tipo, soprattutto per un regime dittatoriale che viveva di segreti, come quello di Mussolini, era al minimo. Non c'è nulla di sorprendente in tutto questo. C'è solo di sorprendente il fatto che qualcuno ci vuole leggere qualcosa che non c'è. E dunque, riepilogando, un misterioso Mr. X, come lo chiamano appunto gli ufologi, avrebbe fatto avere a questo centro i documenti di questo misterioso gabinetto RS-33. Questi documenti, se anche fossero scritti su carta d'epoca, non contengono nulla che li identifichi come parte di un archivio pubblico, di qualcosa di autentico. Non esiste nessuna conferma che sia mai stato creato un qualunque gabinetto RS-33. Il segretario del CUN è l'unico ad averne mai parlato sulla base di questi foglietti che qualcuno gli ha mandato. In 70 anni di storia italiana non c'è niente del genere. Alla richiesta che hanno fatto gli studiosi e gli esperti di poter osservare queste carte, di poterne verificare l'autenticità, il CUN si ha rifiutato di mostrarli. E allora, che cosa possiamo concludere, secondo voi, da tutta questa storia? Il mondo dell'ufologia, che conta anche persone molto capaci, molto attente, prendiamo per esempio gli studiosi del CISU, sono studiosi affidabilissimi. Ma è un mondo, quello dell'ufologia, che da sempre si muove a cavallo tra la fantascienza e il complottismo per tanti, per tanti altri, per tante altre associazioni. E a sua volta è stato spesso vittima di scherzi, di burle, ne abbiamo visti tanti, che poi sono sfuggite magari di mano ai loro creatori. La storia dell'ufo, fantomatico ufo di Mussolini, non sembra molto diversa. Certo, a meno che un giorno, quando si apriranno i portoni blindati dell'Area 51, qualcuno non vi ritrovi alcune vecchie casse provenienti dall'Italia e risalenti al 1933. Magari sistemate proprio là in fondo, accanto a quella cassa che contiene l'arca dell'alleanza ritrovata da Indiana Jones. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia Isola del Mistero, cioè la mia pagina Patreon, dove condivido tanti contenuti esclusivi e grazie a loro è possibile realizzare queste serie e gli altri contenuti che condivido sui miei social. I loro nomi li trovate nella sigla finale di questo episodio. Noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo domani. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!